Magia, Stragonaria e Paganesimo va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista, iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007. Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stragonaria e Paganesimo che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Bene, l'argomento di oggi che tratteremo della trasmissione Magia, Stragonaria e Paganesimo è un argomento che tratta del razzismo nel Veneto, cioè quell'incitamento all'odio sociale che qui nel Veneto è estremamente diffuso e che ha una sola origine in realtà, al di là di come le persone vogliono pensarlo, vogliono trattarlo o vogliono far credere che questo sia. Un solo modo c'è di esprimere il razzismo ed è il razzismo contro le persone povere, cioè le persone che non si possono difendere, quelle persone che si possono prendere e mettere nei campi di sterminio perché tanto non hanno nessuna capacità di difendersi. che poi non vengono messe nei campi di sterminio ma vengono indicate come criminali, come da vessare, come da perseguitare, come da offendere, è esattamente la stessa cosa, nel senso che la pulsione è la stessa ma viene veicolata a seconda delle condizioni oggettive che incontrano. Negli articoli che voglio prendere in considerazione, che appaiono dal Gazzettino l'11 dicembre ed è una polemica che è stata molto forte in dicembre, poi ha avuto i suoi strascichi anche in gennaio e febbraio, è del razzismo che è avvenuto qui nel Veneto ad opera di tale Bitonci e altri personaggi squallidi che hanno tentato di modificare quella che è la disciplina territoriale arrivando a costruire delle forti tensioni, forti tensioni che come al solito coinvolgendo le persone deboli, coinvolgendo le persone fragili rischiano effettivamente di creare delle grandi contraddizioni qui nel Veneto. ed è quel desiderio di dominio, quel desiderio di rubare, quel desiderio di costringere le persone in ginocchio, costringere la sottometasi, che è proprio della società veneta, che è proprio dell'educazione cattolica, che è proprio della parrocchia. Ebbene, il nostro articolo comincia con un articolo di Coltro, un articolo di Coltro, di Gabriele Coltro, che appare sulla Gazzettino dell'11-12-2007 e dice Il procuratore Pietro Calogero manda in archivio il caso Bitonci per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Cosa vuol dire? Che il capo dell'ufficio del Pubblico Ministero non ravvisa il dolo nel comportamento del sindaco di Cittadella. Tuttavia rimane in piedi l'elemento materiale dell'ipotizzato reato di usurpazione di funzione pubblica concretizzato nell'istituzione di quella commissione con compiti di accertamento preventivo delle presunte pericolosità sociali dei richiedenti l'iscrizione anagrafica. Calogero lo ribadisce Non vorrei fosse capito male, l'ordinanza non è affatto buona in sé. Allora, diciamocelo chiaramente, il signor Bitonci ha incitato all'odio sociale contro le persone che chiedevano l'iscrizione anagrafica nella sua città. Cioè, anziché fare il suo lavoro di sindaco, ha preteso di sostituirsi alle forze dell'ordine e in questa sua sostituzione alle forze dell'ordine ha avuto l'appoggio di quel Pietro Calogero che, ricordiamo, non ha esitato a elaborare quella teoria sciagurata che è la teoria del grande vecchio con cui ha potuto torturare le persone ha potuto fare processi illegali ha potuto fare accuse da fuori di testa, da pazzo e non solo Pietro Calogero ma anche supportato da molti magistrati della procura di Venezia in pratica ha aggredito l'intera società civile per assicurare ai datori di lavoro la possibilità di ammazzare in pace i loro dipendenti per proteggere il massacro che avveniva dei dipendenti da Montedison per proteggere la devastazione del territorio che era in atto in pratica Pietro Calogero ha usato la sua funzione di magistrato per aggredire la società civile perché non dimentichiamo che in Italia la funzione del magistrato specialmente dei magistrati locali è anche quella di interpretare la legge e purtroppo ci sono magistrati che interpretano la legge a seconda dei loro bisogni e delle loro paranoie psichiatriche naturalmente quando Calogero elaborò la sua teoria del grande vecchio e fu devastato il territorio, fu devastato il paese alcune persone furono anche ammazzate per questo ricordiamo il tiro a segno che fecero alcuni poliziotti molte persone furono torturate grazie a Calogero e questa devastazione venne fatta in tempi in cui non c'era il tribunale della libertà non c'era il tribunale del riesame non c'era tutto sommato quell'attenzione che avrebbe dovuto esserci dagli organi di controllo è vero, dopo le porcate di Calogero dopo le sue aggressioni che Calogero fece alla società civile insieme ad altri magistrati fu necessario introdurre il tribunale della libertà il tribunale del riesame fu necessario fare delle modifiche all'interno dell'ordinamento giudiziario perché il diritto che aveva allora Calogero di torturare le persone tenendole in galera finché lui voleva con accuse da demente, da fuori di testa era chiaramente pesante ma non è questo che mi interessa mi interessa sottolineare l'individuo cioè il signor Pietro Calogero nella suo gioco di interpretazione delle leggi vessa delle persone cioè si comporta da criminale nei confronti di alcune persone che non si possono difendere e dall'altra parte è assolutamente comprensivo se non addirittura complice di persone come Bitonci di persone come Gentilini di persone che vanno a costruire quell'odio sociale quell'incitamento all'odio nei confronti dell'altro che prevarica che è al di là del reato stesso cioè mentre noi abbiamo visto per esempio in questi giorni vedere intervenire pesantemente il ministero degli interni e giustamente per quell'imbecille che ha messo quella lista su internet di ebrei cioè di professori ebraici che poi non erano neanche tutti ebraici ma al di là di questo ha fatto effettivamente una porcata in mane e giustamente il ministero ha intervenuto qui invece si fanno liste di prescrizione nei confronti di persone fragili che richiedono l'iscrizione anagrafica e Pietro Calogero gli va benissimo cioè per lui non è razzismo per lui non è un'aggressione alla società civile per lui non è un atto di terrorismo rispetto a queste persone che vengono schedate cioè mentre abbiamo un intervento del ministero degli interni rispetto a un imbecille che ha fatto una lista in internet questo qua che fa delle liste che fa delle indagini sulle persone che chiedono l'iscrizione anagrafica non viene nemmeno censurato da Calogero cioè praticamente Calogero usa capi di imputazione che gli fanno comodo e solo per costruire odio sociale solo per costruire quella devastazione sociale a cui lui ha già collaborato in anni passati torturando le persone ripeto, torturando le persone cioè non stiamo qui giocando persone sono state massacrate di botti per due giorni consecutivi questo fece Pietro Calogero e altri magistrati e nonostante il Consiglio Superiore della Magistratura nonostante il Presidente della Repubblica nonostante il Ministro di Grazia e Giustizia fosse a conoscenza delle torture messe in atto da Calogero e da altri magistrati naturalmente non solo non intervennero ma coprirono l'attività di terrorismo di Calogero e l'attività di terrorismo di Calogero non fu una cosa estemporanea è una vera e propria scelta di campo e lo ha dimostrato col suo atteggiamento con Bitonci cioè è una scelta in cui vuole il razzismo perché vi ricordo che negli anni 70 per chi se lo fosse dimenticato l'intero movimento di quella che venne chiamata lotta armata in realtà aveva un solo obiettivo cioè quello di fermare i tentativi di colpi di Stato che erano in corso in Italia da Borghese a Sogno e a tutti gli altri che ci furono questo era lo scopo di quella che venne chiamata allora lotta armata che poi degenerò presi del posto i pistoleri ebbero la prevalenza sugli altri si perse il ricordo di quello che si faceva molta gente andò via di testa e chiaramente le cose poi degenerarono ma tutto il movimento della lotta armata degli anni 70 ebbe un solo obiettivo cioè quello di salvaguardare la Costituzione della Repubblica da aggressioni militari che venivano da Borghese, da Sogno, dalla P2 e da tutti gli altri che stavano mettendo in pericolo la Costituzione della Repubblica e la Repubblica stessa chiaramente sia Calogero che una buona parte dei magistrati erano all'interno di questo disegno criminoso di destabilizzare la Repubblica di destabilizzare la Costituzione e da qui le loro invenzioni da qui le loro vessazioni da qui l'uso della tortura rispetto a persone tutto sommato abbastanza innocue non stiamo parlando di gente che ha ucciso o di gente che poteva essere pericolosa stiamo parlando di tortura a persone che assolutamente magari erano anche fuori non c'entravano più niente da anni soltanto perché Calogero si divertiva soltanto perché dalla costa Mastelloni si divertivano a torturare le persone cioè chiariamoci questo non è che ci fossero delle esigenze di dire questi qua domani sparano col mitra no no era proprio una questione di creiamo un clima di terrore perché creando il clima di terrore possiamo proteggere tutti coloro che stanno portando avanti i tentativi di colpi di Stato e questa è effettivamente una scelta di campo di Calogero che la vediamo proprio nell'azione con Bitonci cioè il suo disprezzo per la società civile il suo disprezzo per la Costituzione gli fa vedere che in fondo l'attentato che ha fatto Bitonci al dettato costituzionale per lui non gliene frega assolutamente niente ora Pietro Calogero colui che per torturare le persone e devastare la società civile si inventò la teoria del grande vecchio con cui sottopose persone a processi illegali ora davanti alle aggressioni portate ai cittadini e finalizzate a istigare all'odio sociale si nasconde fingendo di non vedere che cosa sta succedendo questo individuo assieme al suo compagno Etto Palombarini un altro bel compagno hanno dimostrato non solo il loro odio per la società civile ma il disprezzo nei confronti delle persone usare le persone come fossero bestiame diffamandole infagandole al limite dell'istigazione all'omicidio con la partecipazione del Ministero di Grazie e Giustizia con la partecipazione del Consiglio Superiore della Magistratura e con la partecipazione del Presidente della Repubblica che sapevano di tutte queste cose perché quando il Ministero di Grazie e Giustizia e Consiglio Superiore della Magistratura e il Presidente della Repubblica furono informati dell'attività di terrorismo messo in atto da Calogero messo in atto da Mastelloni messo in atto da Dallacosta avrebbero dovuto prendere l'informativa e consegnarla al magistrato per le indagini mentre invece non lo hanno fatto l'hanno nascosta diventando di fatto complici delle attività di Calogero di Mastelloni di Dallacosta non solo ma il Ministro e il Consiglio Superiore della Magistratura venuto a conoscenza delle attività criminali ed illegali dei magistrati ha detto, ha dichiarato che a lui non gliene fregava niente per cui esiste effettivamente una volontà attiva nel destabilizzare l'istituzione e comunque ampia documentazione è presente è presente sia al Consiglio Superiore della Magistratura sia al Ministero di Giustizia e sia alla Presidenza della Repubblica non questo Presidente della Repubblica neanche quello precedente ma non è importante l'uomo è importante l'ufficio disprezzare le norme costituzionali ha dimostrato come la sua azione fosse volta alla distruzione della società civile la sua azione ha prodotto decine di morti sul lavoro ha aumentato lo spaccio di eroina nel territorio ha aumentato il lavoro nero ha aumentato la devastazione sociale che si concretizza oggi col bullismo la violenza sulle donne e la violenza nei confronti dei cittadini più deboli privati dei loro diritti istituzionali perché vi ricordo che questi magistrati mentre si stavano divertendo a torturare le persone nel frattempo avrebbero dovuto reprimere e prevenire tutte quelle azioni che andavano in realtà a destabilizzare la situazione sociale creando delle situazioni di conflittualità in un secondo tempo perché il bullismo non è che i ragazzi sono bulli perché sono così ma i ragazzi sono bulli perché i magistrati quando avrebbero dovuto lavorare quando avrebbero dovuto impedire che ciò nascesse non lo hanno fatto anzi hanno dato loro l'esempio secondo cui si può fare tutto quel cavolo che si vuole tanto si ha l'impunibilità questo che nasce la devastazione anche qui nel Veneto perché vi ricordo che qui nel Veneto il progetto di devastazione sociale non fu legato semplicemente a un episodio, due episodi o tre episodi che i magistrati non hanno perseguito o hanno lasciato correre qui si tratta dell'intero tessuto sociale del Veneto che è stato devastato dall'azione dei magistrati cioè quando c'è stato lo scontro fra il 79 diciamo la parte più grossa fra il 79 e il 1984 praticamente in questi quattro anni cinque anni è stato devastato l'intero tessuto sociale perché l'impegno dei magistrati nell'aggredire le persone ha permesso a chi già aggrediva le persone sui posti di lavoro sul territorio di aumentare all'ennesima potenza la sua aggressione perché tanto era impunibile praticamente non è che i magistrati hanno semplicemente fatto delle azioni di prevaricazione e di violenza sul territorio a delle persone ma hanno con la loro violenza hanno contribuito ad altra violenza che si sedimentasse sopra perché quando viene fuori Casson che viene a dire che nel frattempo alla Monteggio decine di persone sono morte sono ammalate c'erano condizioni di lavoro disastrose e i magistrati non sono intervenuti significa che i magistrati e la Montedison erano d'accordo nel far ammalare decine e decine di persone quando quegli imbecilli hanno deciso di sparare a Tagliercio non è che hanno sparato a Tagliercio perché così non gli piaceva a Tagliercio hanno deciso di sparare a Tagliercio perché pensavano che sparando a Tagliercio avessero una buona propaganda rispetto agli operai della Montedison presso i quali Tagliercio stava facendo azione di devastazione li stava devastando e quando la magistratura ha dovuto arrestare chi ha ammazzato Tagliercio ha dovuto intervenire a conoscenza che nella Montedison succedevano delle cose atroci non è intervenuta non ha indagato in pratica ha agito proteggendo la Montedison nella sua attività di vessazione nei confronti delle persone questo non significa che non andavano arrestati chi ha ammazzato Tagliercio ma significa che però la magistratura ha permesso alla Montedison di massacrare gli operai della Montedison e questo è una devastazione delle persone è l'impunità nel delinquere che fa di bitonci un personaggio che si ritiene impunibile è in diritto di costruire delle schedature nei confronti delle persone come il ministero degli interni interviene con uno che fa le schedature che le mette in rete e non interviene come uno con il bitonci che non solo fa delle schedature ma usa anche delle forze di polizia perché i vigili urbani sono forze di polizia per schedare delle persone per farsi gli affari delle persone per indagare sulle persone qui siamo fuori di testa a parte bitonci che è un incapace non sa fare il suo lavoro di sindaco ma vuole sostituirsi alle funzioni dello Stato alle funzioni di indagine e questo al di là di cosa lui ha venduto di cosa lui ha venduto a Calogero si tratta di stabilire cosa pubblicano i giornali quale allarme sociale i giornali creano sulla sua attività quale propaganda viene fuori perché questa non è stata affermata e il bitonci grazie a quegli articoli continua a ricattare le persone non dimentichiamocelo questo che se le persone non sono tranquille e non sanno che di là hanno una giustizia che funziona una polizia che funziona dei magistrati che funzionano obbedendo alle leggi e non ai porcacci comodi loro le persone sono in fibrillazione ed è una società in fibrillazione significa una società in cui il disagio sociale aumenta in cui il delinquere arriva anche a livelli estremi arriva anche a danneggiare ancora di più di ciò che si potrebbe invece limitare o delimitare ed è una cosa gravissima quella che ha fatto Calogero dimostrando come chi è nell'istituzione ha l'impunità nel commettere dei reati rispetto delle persone deboli e fragili è un atto di assoluta vigliaccheria non si può mediare su queste cose è un'offesa alla costituzione quella che ha fatto Calogero un'offesa a tutta la magistratura dice davanti a chi fa violenza sui cittadini più deboli Calogero dimostra di essere complice e comprensivo si tratta di un atto di aversione dell'ordine democratico e a poco il gazzettino dell'11 dicembre 2007 da scrivere nell'inchiesta di Calogero su Bitonci il procuratore Pietro Calogero manda in archivio il caso Bitonci per l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato cosa vuol dire che il capo dell'ufficio del pubblico ministero non ravvisa il dolo nel comportamento del sindaco di Cittadella tuttavia rimane in piedi l'elemento materiale dell'ipotizzato reato di usurpazione di funzione pubblica concretizzato nell'istituzione di quella commissione con compiti di accertamento preventivo della presunta pericolosità sociale dei richiedenti l'iscrizione anagrafica Calogero lo ribadisce non vorrei fosse capito male l'ordinanza non è affatto buona in sé e il procuratore lo precisa meglio quando nella richiesta di archiviazione fa riferimento al pericolo di sconfinamento dei poteri che nella disciplina dell'iscrizione anagrafica la legge attribuisce al primo cittadino detti poteri nella stesura originaria dell'ordinanza erano stati illegalmente estesi fino a comprendervi attribuzioni funzionali riservate agli organi esecutivo e legislativi dello Stato l'atto di terrorismo l'atto di avversione l'atto di intimidazione nei confronti dei cittadini è avvenuto il reato è stato fatto ed il reato andava perseguito rimane quell'incitamento all'odio sociale all'odio di classe che usò Calogero per colpire le torture per coprire le torture nei confronti dei cittadini durante gli anni 80 per impedire loro di difendersi ah a proposito se qualcuno dovesse ascoltare questa trasmissione avesse dei dubbi ricordatevi che il torturato ero io per cui ho tutti i dati a disposizione per dire quanto questo Pietro Calogero fu infame vigliaco e criminale tanto per essere chiacere non sto parlando di terze persone io fui massacrato di botte per due giorni da Pietro Calogero da Mastelloni dalla Costa e da altri tanto per essere chiari è comprensivo Pietro Calogero nei confronti di Bitonci il terrorismo di Bitonci è volto verso le persone deboli fragili indifese Bitonci spara le persone che non si possono difendere e questo piace a Calogero lui l'odio di classe lo esercita solo nei confronti delle persone che si permettono di chiedere giustizia che pretendono il rispetto delle norme costituzionali quello che Bitonci è il 12 dicembre 2007 apprendiamo che Bitonci si vanta che altri 200 sindaci abbiano messo in atto azioni di violenza amministrativa nei confronti di cittadini deboli equivale ad aver organizzato le camicie nere che sostituendosi agli organi istituzionali vesceranno i cittadini da un lato Calogero impedisce ai cittadini di avere giustizia e essere tranquilli più che altro e dall'altro lato favorisce l'insorgere distanze che mettono in pericolo la società civile domani i cittadini verranno vessati dall'organizzazione terroristica di Bitonci esattamente come furono vessati dall'organizzazione terroristica della democrazia cristiana allora oggi si scopre che Andreotti agiva con la mafia per vessare i cittadini e aveva forza sufficiente per impedire l'applicazione del dettato costituzionale adesso è stato condannato ma in prescrizione cioè quella condanna all'infamia a cui dovremmo cominciare a dare un certo peso oggi dopo che tutto è caduto in prescrizione dove era Calogero e chi doveva intervenire per salvare le istituzioni privati dei diritti costituzionali e in continuo pericolo di vita sono le persone sui posti di lavoro ne avranno mai giustizia quelli ammazzati nella Montedison è tutto caduto in prescrizione è caduto in prescrizione avevamo altro da fare dicono i magistrati sai è caduto tutto in prescrizione e mentre l'Unione Europea inizia il procedimento per razzismo contro l'Italia omofobia e discriminazione come riporta il quotidiano all'unità una lettera di ingiunzione all'Italia l'Unione Europea ci manda un riparo vero scritto perché non abbiamo ricepito le norme antidiscriminazione sessuale ovvero quelle che condannano l'omofobia la polemica dei Teodem dunque arriva a Bruxelles la norma prevista dal decreto sicurezza che ha scatenato la bufera al Senato ora non è più solo una questione nazionale e nei prossimi mesi la Commissione prenderà un'ulteriore decisione per quanto riguarda i provvedimenti per infrazione a dare la notizia è Marco Cappato parlamentare europeo dei radicali che un mese fa aveva rivolto un'interrogazione sul tema al commissario agli affari sociali Vladimir Spigla ora la risposta è arrivata e bacchetta l'Italia bacchettona nella lettera di ingiunzione si citano problemi manifesti concernenti il pieno recepimento delle disposizioni ovvero la direttiva europea 2000 barra 78 contro le discriminazioni per orientamento sessuale non è stata ricepita dall'ordinamento italiano insieme a noi solo Lettonia e Finlandia anche loro destinatari di una lettera di ingiunzione dal sito dell'unità prendo la questione del rispetto assoluto dell'uomo questione ignorata e disprezzata da Pietro Calogero questa è mia non è l'unità disprezzata da Pietro Calogero è ben presente nell'unione europea che pur non occupandosi del bitonci che in maniera squallida si organizza per discriminare i cittadini deboli e poveri con l'appoggio di Calogero riafferma quel diritto all'uguaglianza nella società civile che troppo spesso si dimentica essere uno dei principi fondanti la nostra costituzione e quando viene messo in pericolo si tratta sempre di eversione dell'ordine democratico dice l'unione europea il parlamento con la risoluzione del 15 novembre 2007 questo è preso dal sito dell'unità il parlamento europeo con la risoluzione del 15 novembre 2007 ha stabilito che non è lecito praticare espulsioni di massa dai paesi dell'unione europea ed ha condannato pesantemente le dichiarazioni rilasciate al quotidiano del messaggero dal vicepresidente della commissione Franco Frattini dopo l'omicidio di Giovanna Reggiani quello che si deve fare aveva fermato il commissario è semplice si va in un campo nomadi a Roma ad esempio sulla Cristoforo Colombo e a chi sta lì si chiede tu di che vivi se quello risponde non lo so lo si prende e lo si rimanda in Romania così funziona le direttive europee semplice e senza scampo nella risoluzione infatti si legge che il parlamento dell'unione europea ritiene che le recenti dichiarazioni rilasciate alla stampa italiana da Franco Frattini vicepresidente della commissione in occasione di gravi episodi verificatesi a Roma siano contrari allo spirito e alla lettera della direttiva 2004-38 CE direttiva che li si chiede di rispettare pienamente la risoluzione dunque affronta il tema del recepimento della direttiva 2004-38 CE inerente al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dei stati membri e il Parlamento e nell'esprimere apprezzamento per il dialogo intercorso fra Prodi e il premier rumeno Kalin Popescu Tariseanu ha dato il suo appoggio per l'appello avanzato dei due relativamente all'impegno dell'Unione a favore dell'integrazione sociale delle popolazioni meno avvantaggiate e della cooperazione fra gli stati membri in termini di gestione dei movimenti della loro popolazione in particolare mediante programmi di sviluppo e di aiuti sociali inclusi nei fondi strutturali non polizia e vessazioni come fa Bitonci o come Bitonci vuole fare l'Unione europea ha ricordato che ogni cittadino dell'Unione che soggiorna liberamente e legalmente in uno stato membro deve godere di tale stato della parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali e ha preso atto dal fatto che i Rom sono tuttora oggetto di discriminazione e di abusi nel territorio dell'Unione e che l'integrazione l'inserimento sociale e la protezione di tali minoranze sono purtroppo obiettivi ancora da conseguire vi ricordo che la dichiarazione di ieri ieri era il 12 no? sì ieri era l'11 febbraio appare comunque qualche giorno fa adesso non è ieri Berlusconi ha dichiarato guerra ai Rom cioè noi abbiamo uno che potrebbe diventare il capo dello stato che ha dichiarato guerra ai Rom che equivale all'attività nazionale di uso dei campi di sterminio e io vorrei vedere se gli ebrei della comunità di Roma si incazzano per questa cosa mentre la popolazione civile italiana è pronta ad incazzarsi e il ministro degli interni è pronto a mobilitare la forza di pulizia per un elenco vorrei sapere se gli ebrei sono in grado di mobilitarsi contro un Berlusconi che dichiara guerra ai Rom tanto per essere chiaro anche perché da quello che ho visto non ha dichiarato guerra a chi commette dei reati ma proprio dichiarato guerra ai Rom che equivale a un'affermazione di razzismo e di nazismo pertanto vado avanti con l'articolo il Parlamento dell'Unione Europea ha ribadito che tutte le legislazioni nazionali devono rispettare rigorosamente i limiti e garanzie imposte compreso l'accesso a un ricorso alle vie legali contro l'allontanamento e l'esercizio dei diritti della difesa e che le espulsioni collettive sono proibite dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali pertanto il Parlamento dell'Unione Europea ha dato in carico alla Commissione parlamentare competente di effettuare entro il 1 giugno 2008 in collaborazione con i Parlamenti nazionali una valutazione dei problemi di ricepimento della Direttiva 2004 barra 38 CE in modo da mettere in evidenza le migliori prassi nonché le misure che potrebbero portare a discriminazioni tra i cittadini europei dunque l'Unione Europea rispingendo il principio delle responsabilità collettive e ribadendo con forza la necessità di lottare contro qualsiasi forma di razzismo e xenofobia e ogni altra forma di discriminazione e stigmatizzazione basata sulla nazionalità e sull'origine etnica ha invitato la Commissione ad elaborare una strategia globale per l'inclusione sociale dei Rom anche mediante l'istituzione di una rete di organizzazioni che favoriscono l'integrazione e promuovono strumenti adatti ad aumentare la consapevolezza in materia di diritti e doveri dei Rom questo articolo è stato ripreso da www.newsfood.com articolo international Unione Europea non lecita espulsione di massa è vergognoso quello che ha fatto Calogero non procedendo contro Bitonci per alimentare l'odio raziale nel Veneto nessuno dice che non abbia le sue ragioni giuridiche nel chiedere l'archiviazione ma si rileva che quelle ragioni giuridiche sono in contrasto con le ragioni giuridiche con cui ha giustificato le torture e i processi illegali nei confronti di cittadini che chiedevano giustizia rispetto delle norme costituzionali sono le stesse ragioni giuridiche con cui non ha indagato e processato chi devastava il territorio costruendo un clima sociale di conflittualità da un lato rispondendo alle sue convinzioni etico e morali gli operai sui posti di lavoro possono essere ammazzati e questo non danneggia la Costituzione secondo Calogero poi il Presidente della Repubblica dice ma come mai troppa gente viene ammazzata sui posti di lavoro e voglio lo dire a Calogero è la logica di Pietro Calogero che sta continuando ad insanguinare il Veneto purtroppo i procuratori della Repubblica i sostituti procuratori delle procurazioni della Repubblica sono obbligate per Costituzione a fare tutti i processi dei reati di cui vengono a conoscenza ebbene i procuratori delle procurazioni della Repubblica fingono di non leggere i giornali fingono di non essere la conoscenza dei reati per non fare i processi e non è solo che le questioni dei magistrati cioè le questioni delle procure sono messe male cioè non hanno fondi o non hanno sufficienti mezzi per agire anche se il magistrato ha pochi mezzi per agire i reati a cui deve dare la precedenza sono quei reati che mettono in discussione che mettono in crisi che mettono in pericolo la società civile quando vengono fatti da individui che appartengono alle istituzioni perché gli individui che appartengono alle istituzioni non solo fanno dei reati gravissimi e i loro reati sono all'ennesima potenza ma usano il loro ruolo nelle istituzioni per aggravare la conflittualità sociale per costruire odio sociale e finché i magistrati non fanno questo questi magistrati che non fanno questo sono al di fuori delle istituzioni sono al di fuori del dettato costituzionale e questo è il grande problema che ha il Veneto purtroppo la storia l'ha insegnato si tratta di comprendere il perché certi atteggiamenti nel Veneto è vero che il rispetto alle norme sociali a volte è fastidioso e spesso comportano un carico eccessivo di lavoro ma nel Veneto la situazione è grave perché il rispetto della norma sociale si scontra col disprezzo per la norma che viene insegnato negli oratori e nelle parrocchie nelle parrocchie Venete si educa le persone all'illegalità al furto ad essere più furbe delle altre a far fesse le persone nello stesso tempo si nascondono le norme sociali in modo da impedire alle persone di mettere in atto strategie economiche e legali con le quali fare il loro profitto così anziché organizzarsi per fare profitto gli imprenditori veneti si organizzano per approfittarsi dei più deboli pronti a giocare ricattando le persone su quella dipendenza psicomorale che viene costruita nelle parrocchie e confermata dal fatto che le persone non sanno il significato sociale delle loro azioni scrive il settimanale l'espresso in data 8 novembre 2007 nel Veneto l'insofferenza fiscale è quasi una cifra culturale le rivolte degli studi di settore contro le nuove alicote del fisco è partita da qui dal regno delle proteste antitasse dove la sfiducia verso lo Stato e il governo Prodi e ai massimi storici oggi è andata bene chiosa Francesca ma ci sono comuni ancora più caldi giorni fa a piazzola sul Brenta mi hanno sventolato in faccia i volantini della Lega Nord dobbiamo anche stare attenti a non perdere le staffe qui le organizzazioni degli esercenti sono molto potenti di fatto se la lotta contro gli scontrini selvaggi prima era casuale ora l'agenzia regionale mappa il territorio e fa azioni repressivi contro lo stesso obiettivo e ancora sempre lo stesso articolo dell'Espresso bisogna essere rapidi il primo che viene preso manda gli sms agli altri i registratori di cassa iniziano a cantare l'effetto sorpresa svanisce ammonisce il capo team Giancarlo Del Massa i primi quattro controlli sono positivi e si commutano in quattro multe da 129 euro solo Lorenzo perde tempo la cliente che blocca lo prende per un testimone di Geova sono tutti in borghese e il tesserino dell'agenzia incute meno soggezione del tesserino dei finanzieri se non si comprende la mentalità del Veneto se non si parte dalla mentalità imposta negli oratori e che fa parte di una certa parte Veneta e che fa di una certa parte Veneta l'imprenditoria una mentalità truffaldina riuscirà a danneggiare irreparabilmente la società civile se c'è una banda che si riunisce per aprire con scassa un negozio l'imprenditoria Veneta apre il negozio per derubare sia la società civile che le singole persone essere imprenditore nel Veneto spesso è essere un bandito e passare dal fare l'imprenditore a fare l'imprenditore che spaccia droga come a Treviso o a fare l'imprenditore che rapina come a Treviso i successi successero praticamente questi fatti vediamo un attimo nel mese di dicembre per cui potete chiaramente ritrovarli sulla stampa di dicembre il passo è breve perché la mentalità con cui si fa l'imprenditore è la stessa con cui si rapina e si spaccia droga delle regole sociali agli imprenditori qui in Veneto non frega assolutamente nulla è sempre una mentalità di illegalità e di illecito perché è più furbo degli altri e deve truffare gli altri è l'educazione della parrocchia che sta sommando disagio a disagio in Veneto poi quando lo Stato inizia a fare controlli allora iniziano le violenze specialmente nei confronti di chi vuole giustizia specialmente nei confronti del più debole è la mentalità della parrocchia il più debole la donna violentata il ragazzino abusato devono vergognarsi non chiedere giustizia il ragazzino preso di mira dei buli del branco deve vergognarsi non chiedere giustizia è la mentalità della parrocchia illegale e violenta che prima o poi dovrà scontrarsi con le esigenze dello Stato a soffrirne non è solo la popolazione ma anche quegli imprenditori che hanno un senso sociale che chi pratica l'illegalità indica come i fessi gli imbecilli che pagano le tasse e che sono subissati da scartoffie burocratiche quegli imprenditori imbecilli che si preoccupano delle protezioni sui posti di lavoro che si preoccupano di non creare incidenti o di non far ammalare gli imprenditori ecco questi sono gli imbecilli non le persone da onorare o le persone da prendere ad esempio ci si chiede con che stomaco personaggi come Pietro Calogero Fogliadelli Egnio Fortuna Ugolini Rita dopo aver insanguinato il Veneto con il loro odio di classe permettono non solo gli omicidi sui posti di lavoro ma favorito per i loro interessi il sorgere di quel scoramento che costringe i cittadini a scorgere il loro nemico nelle istituzioni nazionali continuano ad occupare il loro posto anziché essere licenziati per aver messo in pericolo la Costituzione della Repubblica Italiana è di questi giorni lo prelevo da un sito web ma si trova in molti articoli in molti giornali la vicenda del presidente napolitano e del New York Times un napolitano che pronuncia frasi senza sapere nemmeno di cosa stia parlando è spettacolo triste e indecoroso ma dietro la visita del presidente che si è conclusa oggi e non so la data della visita comunque la potete trovare la visita di Napolitano in America tranquillamente c'era anche un'altra cosa c'era il desiderio di sondare l'alleato di capire quale percezione ci fosse dell'Italia in un paese così determinante e potente una risposta forse non l'unica ma certo la più spiazzante è arrivata dal New York Times che proprio stamani ha dedicato un lungo articolo al declino dell'Italia all'oscoramento politico sociale ed economico un altro attacco è giunto dal Washington Post preoccupato di un ritorno del terrorismo nel bel paese due rospi non facili da digerire Napolitano ha tenuto insieme entrambi questi aspetti caratterizzanti della visita ha ribadito che c'è condivisione di preoccupazioni e di visioni con l'America e che perfino sull'Iran sul quale Bush non ha usato mezzi termini c'è una consapevolezza condivisa che l'Italia vuole fare la propria parte nelle aree di crisi del mondo al tempo stesso il presidente ha difeso a spada tratta l'immagine del paese e non ha esitato a definire pura idiozia certe critiche del più famoso quotidiano americano secondo il quale tutti i deputati italiani hanno l'auto blu questo in effetti è un po' pesantina tutta la vita della nazione italiana è fatta da micro scelte sono le micro scelte che determinano la passione e lo scolamento dei cittadini purtroppo i magistrati del Veneto sono venuti meno a quella necessaria discrezione che rende la loro funzione protetta da interventi e coinvolgimenti di natura personale che ne inquinano il giudizio rendendolo spesso asservito ad interessi di parte e offensivo nei confronti del dettato costituzionale non è solo Egno Fortuna che scrive un libro per esaltare l'attività di stupro di minori del Gesù di Nazareth compiacendo la curia vescovile come non voleva esaltare l'attività come non volete dire che non voleva esaltare l'attività di stupro di minori del Gesù di Nazareth forse aveva intenzioni diverse e allora con quale sensibilità ha letto i evangeli cattolici con la sensibilità dell'uomo che ha giurato fedeltà i principi fondamentali della Costituzione o quella dell'uomo che nel suo delirio di onnipotenza dice o fate quello che voglio io io vi ammazzo in pratica ha letto ciò che gli faceva comodo leggere e non ha letto ciò che lui non voleva leggere per cui non ha nessuna scusante se aveva la sensibilità dei principi costituzionali è stato attento a quello che avveniva nella società civile se nella sua finta cicità ignorava che il valore sociale di Gesù è scannata con i miei nemici che non si mettevano in ginocchio davanti a me e manifestava la sensibilità del sottomesso al suo dio egli agiva e agisce in modo che le persone vessate offese denigrate nella società civile non potessero proteggersi dalle offese ma fossero torturate e incarcerate ogni volta che chiedevano giustizia come si permettono questi bifolchi di chiedere giustizia nei confronti dei delitti del dio padrone purtroppo è la mentalità di molti magistrati questa egno fortuna ha compiaciuto le curie vescovili insultando la costituzione e la società italiana quante persone sono state ammazzate sul territorio per la non azione dovuta alla complicità della magistratura a volte sentiamo dire dai giornali è stato denunciato che quella persona aveva picchiato la moglie però non hanno fatto niente e quella persona dopo l'ha ammazzata esistono delle responsabilità istituzionali che non si può prevedere dove vanno cioè non è che il magistrato possa sapere che dopo le botte quello può anche ammazzare però sta di fatto che quando quello ha dato delle botte ha commesso un reatto e nella misura in cui il magistrato non è intervenuto di fatto si è reso responsabile anche del proseguo e questa è una cosa che non viene perseguita in Italia perché fa comodo non perseguire questi questi finti errori che in realtà sono delle inadempienze che hanno valore costituzionale però sta di fatto che è così ed è la stessa cosa che fa anetica Pietro Calogero che fa anetica Fogliadelli o Candiani prima di lui quanto è comprensivo Pietro Calogero colui che torturava perché chi costringe le persone al lavoro nero e all'insicurezza sul lavoro sono persone istituzionali e questo non me lo toglierò mai dalla testa queste parole perché secondo questi magistrati chi costringe le persone al lavoro nero chi costringe le persone a morire sui posti di lavoro sono le istituzioni tanto per capire anche la mentalità di queste persone e sono parole di Calogero di Michele Dallacosta di Ugolini Ritta di Carlo Mastelloni di Ferrari di Pisani di Palombarini e la loro voglia di assassinare le persone e la loro responsabilità prelievo dal sito web la permanenza di condizioni di lavoro illegali io però mi fermo qui perché mi fermo qui perché la mia voce sta andando un po' a quel paese e allora questa facciamo parlare la facciamo passare come la prima parte del disagio del Veneto per colpa della magistratura italiana e ne faremo una seconda trasmissione perché effettivamente ad un certo punto anche la mia voce che non è proprio perfetta e proprio buona ha dei limiti non indifferenti ora io vi do naturalmente appuntamento per domani per la prossima trasmissione e continueremo i discorsi con la magistratura e cosa la magistratura non fa e cosa le sue cose che non fa producono qui nella società veneta perché quando si perde ore e ore centinaia di ore di lavoro giocando su un lamierino e una forbice dove l'unico indagato alla fin fine è l'ex poliziotto che faceva il perito e nel frattempo si lascia che la società civile vada a scatafascio perché per seguire quei reati non ti porta in prima pagina nel giornale non ti fa fare il gazzettino e il mona eh mona bomber l'invenzione del gazzettino lo so sono reati anche quelli da perseguire e sono anche reati importanti sono reati che creano allarme indubbiamente questo ma nel frattempo si perde tempo e non si perseguono centinaia e centinaia di reati proprio per portare la situazione e la società civile in situazioni più decenti perché quando ci sono decine di ragazzi che si suicidano significa che c'è qualcosa di malato e le cose malate sono colpa sempre di Calogero di Dalla Costa di Ugolini di Mastelloni di Ferrari di Pisani di Palombarini di quelle persone che venendo meno i loro doveri di ufficio anche se magari qualcuno di questi ormai si è andata anche in pensione venendo meno i doveri di ufficio di fatto stanno devastando la società veneta e questo è veramente una cosa squalida ed infame bene io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento per la seconda parte della trasmissione di Magia Stragonaria Paganesimo riguardante alle difficoltà del Veneto e al ruolo dei magistrati nelle difficoltà del Veneto e vi ricordo io sono Claudio Simeoni meccanico prendista Stragone e guardiano di Anticristo ciao a tutti e a risentirci alla prossima